Con il nuovo zaino scopo 7 e il suo speaker wireless scopiati tutta la sicafi vuoi. 7, sempre un po' uno zocco avanti. Ehi, è finita. C'è anche integrato con plug USB per essere sempre pieno di Ehi. 7, sempre uno zaino avanti. E c'è di più. Con il trolley jackai sia un trolley che uno jackai. 7, sempre uno zaino avanti. Non ti basta. E anche Ehi. 7, sempre uno zaino avanti. Mitama presenta i Super Zazza. Bellissimi! Leggerissimi! Super capienti! Leggerissimi! Super bellissimi! Leggerissimi! Ehi, cos'è questo glitter? Per fortuna sono impermeabile. Illumino io, arco dio. Scusate, ero a me a stormarmi. Tranquilli, ho il colo imbottito. Personalizza il tuo Zazza Mitama. Bi-mat-bi-bis. Quest'anno c'è una grande novità. Gli Katsbola Zorcullo Gang. Con l'originale flip system multiforme. Scusate, ero a me a stormarmi. Sorprendono tutti con gli occhi bobble. Scoprano al buio con gli occhi fluorescenti. E si distinguono ovunque con gli occhi olografici. Zaini scuola S&J Gang. Uno zaino di sorprese. Evidentemente, evidentemente, temente. Non ferma il bagno. Agenda 2020, evidentemente, bastardo di no. Con gli zaini scuola S&J sei sempre avanti. Grazie a powerbank integrato, troll trasformabile e tante innovazioni di stile e tecnologia. Seven, sempre uno zaino avanti. Comics. Più ridi, più scopi. Con vita da comics, invia le foto e i video più corno. Vinci una Nintendo Switch a settimana e un videogame. A settimana e un videogame. A settimana e un videogame al gio... Quest'anno c'è una grande novità. Gli zaini scuola S&J Gang. Ti cambiano faccia con il nuovo Flips. Zaini scuola S&J Gang. Uno zaino di sorprese. Comics Flash. Uno zaino mostruosamente strunzo. Comics Flash. Fatti scopare. Fatti scopare. Sous-titrage ST' 501